Molto bene, quindi il modello di qualità abbiamo concluso e adesso passiamo al passo successivo il passo successivo che rappresenta anche la chiusura di questo corso è un argomento in sostanza descrittivo con pochi dettagli tecnici di cui voglio parlarvi è un argomento di interesse e estremo al giorno d'oggi devo dire negli ultimi anni un po' meno, poi vi spiegherò perché ecco l'argomento della gestione delle magre la gestione delle magre di cui trovate la documentazione di questo argomento qui sulla mia pagina al di sotto dei modelli di qualità fluviale vedete un file introduzione alla gestione delle magre e linee guida del ministero dell'ambiente che ho pensato di renderli disponibili io adesso comincio facendoli vedere e utilizzando come filo conduttore questo primo file introduzione alla gestione delle magre allora l'introduzione alla gestione delle magre dovrebbe essere non è questo, è questo qui aspettate no, non esattamente questo aspettate un secondo, no è questo, perfetto bene, allora andiamo a far sparire questo accidente questo è un problema di visualizzazione alla gestione delle magre al secondo, vengono vedere che sono 6 geniossi tutti bene, quindi dobbiamo fare così bene ed eccolo qua lo giro e ci siamo visualizzate con la visualizzazione e la visualizzazione della stessa molto bene bene, allora aspettate che voglio fare una cosa che forse può rischio visualizzarlo meglio di un sede che va un po' meglio allora, non si legge benissimo, nessuno lo sapeva ma veniamo di parlarne soprattutto allora, intanto la gestione delle magre è un argomento di grande rilevanza nell'ambito della nostra materia della gestione delle risorse idriche chiaramente che cosa riguarda la gestione delle magre riguarda tutte le attività che sono connesse al monitoraggio, previsione delle magre e alla messa in atto di procedure per limitare le conseguenze causate dalle magre le magre chiaramente sono dei fenomeni estremi che sono estremamente impattanti sul tessuto sociale e anche sull'ambiente quindi sono fenomeni preoccupanti non solo per le ricadute che hanno sulla società e sulla salute e sullo status di vita dell'uomo ma sono importanti e sono impattanti anche nei confronti dell'ambiente quando si verificano delle magre estreme sono dei veri propri shock per gli ecosistemi il cui recupero richiede tempi molto lunghi questo argomento è stato ed è tuttora di grande attualità a livello globale diciamo che la cima alle piene la magra costituisce una sorta di emergenza idrica a livello globale per quanto riguarda il contesto italiano la magra è stata oggetto di grande attenzione da 2000-2010 da 2010 in poi non si sono verificate magre estive importanti e quindi se vogliamo la preoccupazione sia un po' affievolita voi sapete che in generale nel contesto sociale l'assenza di eventi estremi riduce il livello di attenzione questo è un potenziale problema perché riducendo il livello di attenzione riduce anche il livello di preparazione riduce la cosiddetta resilienza della società nei confronti di questi stessi eventi estremi resilienza significa la capacità di incassare un evento estremo limitandone i danni rispetto a una situazione meno resiliente ecco, vi dicevo negli ultimi anni non si sono verificate delle magre estreme negli anni dal 2000-2010 invece ci sono verificate magre importanti non so se voi ricordate il 2003 è stato un'estate bellissimo dal punto di vista del turismo e dal punto di vista meteorologico è stata splendida però non si sono verificate precipitazioni su gran parte dell'Europa dal mese di maggio fino al mese di settembre in oltrato e questo ha causato una magra estiva molto pesante circostanze simili si sono ripetute nel 2007-2009 per cui in quegli anni di fatto si era diffusa un po' la percezione che vi fossero in atto dei cambiamenti che proponevano questi eventi con maggiore frequenza in realtà da allora in poi non sono verificati tanti mentre invece adesso ultimamente abbiamo una ripresa degli eventi di piena estremi ecco, tenete presente che al di là di quelli che possono essere cambiamenti climatici di cui vi parlerò c'è comunque una variabilità naturale in questi fenomeni e questa variabilità naturale tenete presente che sono fenomeni che accadono a seguito di sono fenomeni fisici quindi a seguito di fluttuazioni climatiche che non sono del tutto casuali se noi non le comprendiamo fino in fondo non sono del tutto casuali e noi abbiamo guadagnato l'esperienza che questi tipi di eventi estremi quando occorrono tendono a occorrere in gruppo cioè sia le piene che le magre tendono a clasterizzare ed occorrere a verificarsi in gruppi ecco, questo spiega per quale motivo noi viviamo periodicamente eventi caratterizzati da estremi dello stesso tipo ecco, nella Bibbia tra l'altro l'ho già citato questo fenomeno i sette anni di fame i sette anni di abbondanza che Noè appunto doveva ha dovuto fronteggiare e quindi sostanzialmente sono eventi noti anche se ancora non è tutto spiegato ecco, morale la magra in quegli anni l'ha colpito ecco a livello italiano ma anche europeo con una certa frequenza adesso un po' meno comunque in sostanza proprio in quegli anni se voi osservate queste referenze che io vi propongo sono tutte referenze che sono datate intorno al 2008 2009 perché proprio in quegli anni anche a livello europeo si è sviluppata una maggiore sensibilità ecco, l'approccio che viene proposto per fronteggiare le magre ha un proprio una propria articolazione logica che è stata elaborata e proposta dall'agenzia per l'ambiente europeo la European Environmental Agency in realtà è stata proposta non direttamente da loro è stata proposta dalla letteratura della letteratura delle scienze sociali per le social sciences e questo filologico si articola in diverse fasi ecco le diverse fasi le vedete questa in inglese le vedete evidenziate qui in alto ecco questo praticamente contesto questo schema logico viene chiamato deep-seer dalle iniziali di driving pressure state impact and response vediamo che cosa significa praticamente lo schema per l'elaborazione di una procedura di gestione delle magre deve partire dall'analisi delle driving forces cioè dall'analisi delle forzanti quindi il clima in sostanza ecco dall'analisi delle forzanti si passa all'analisi delle pressures cioè delle pressioni sull'ambiente e quindi la forzante che cosa potrebbe essere il climate change potrebbe essere le oscillazioni climatiche mentre la pressure è data dalle sollecitazioni effettive sull'ambiente pioggia è una potraspirazione temperatura quindi le forzanti sono un meccanismo che sovrintende globalmente le pressioni mentre le pressioni sono proprio date dagli impatti reali sul sistema quindi distinguete l'esempio climatico precipitazioni dichiarisce la differenza oppure potrei dire allo stesso modo clima precipitazioni quindi la forzante la driving force è il clima e poi invece le pressure ci sono precipitazioni e la potraspirazione della temperatura ecco queste determinano lo stato del sistema che noi dobbiamo comprendere lo stato del sistema praticamente quantifica in che situazione il sistema si trova cioè se è una situazione normale se è una situazione sofferente e la quantificazione l'assessment la valutazione dello stato del sistema viene fatto attraverso anche operazioni di modellistica quindi per noi la valutazione dello stato del sistema è la valutazione della disponibilità di risorsa idrica bene l'impatto quindi l'impatto sullo stato del sistema che queste pressioni danno è in funzione dell'impatto la risposta quindi praticamente viene proposto lo stimolo logico che guardate bene è del tutto intuitivo è del tutto intuitivo però perché lo si formalizza lo si formalizza per chiare il contesto nel quale si lavora soprattutto ai nostri interlocutori e ai portatori di interesse quindi ripeto analisi delle forzanti cambiamenti climatici cambiamenti indotti dall'uomo analisi delle pressioni precipitazioni temperatura analisi dello stato del sistema un sistema che sta bene un sistema che sta male l'impatto delle pressioni sul sistema e quindi potremmo dire sostanzialmente che non succede nulla oppure che si verifica una piena che si verifica una magra e poi la risposta ecco questo schema è fatto bene perché allora andiamo a vedere come è articolato non è immediatamente comprensibile quindi andiamo a vedere come è articolato però una volta compresa l'articolazione è fatta abbastanza bene perché mi fa una panoramica complessiva ecco intanto le driving force qua vi fa vedere il climate change e i fattori naturali e guardate bene che l'interazione tra questi due meccanismi è fondamentale ed è un'interazione che noi ancora non comprendiamo bene ecco nonostante gli sforzi i numeri sforzi fatti per capire il sistema clima in realtà non lo si è compreso fino in fondo e la conseguenza è che le variazioni naturali del clima non sono ben comprese pensate alle erie glaciali abbiamo delle ipotesi che spiegano tentano di spiegare perché si sono verificate le erie glaciali ma in realtà la spiegazione definitiva ancora non l'abbiamo ma venendo anche più vicini a noi noi siamo consapevoli che nel recente passato ci sono state delle oscillazioni climatiche di cui vi ho già parlato che non riusciamo a spiegare nel medioevo c'è stato in Europa un periodo caldo dico in Europa perché non abbiamo dati sulle altre parti del mondo che ci consentano di poter dire che anche nelle altre parti del mondo c'è stato un periodo caldo però abbiamo delle testimonianze chiare che ci dicono che gli acciai sulle alte erano molto più alti di adesso vi adesso intendo proprio questi giorni poi c'è stato un raffreddamento ci sono state a partire dal 1500 degli eventi estremi accompagnati dal raffreddamento del clima europeo per cui ad esempio noi sappiamo che la casa d'este è stata ha sofferto tantissimo dal punto di vista economico per una serie di petute di pieni di po' che hanno distrutto i sistemi di bonifica su cui avevano investito del denaro notevole noi sappiamo che dal 1500 al 1700 c'è stata una sequenza di pieni di po' molto frequenti e raffreddamento perché noi abbiamo degli osservatori degli scienziati che ci dicevano che in appennino a 1700 metri di po' c'erano i nevi perenni quindi una differenza molto importante rispetto a oggi e sappiamo che dal 1750 queste nevi perenni hanno cominciato a ritirarsi questa fase di riscaldamento che noi adesso stiamo vivendo in realtà spesso la si attribuisce all'inizio al 1860 ma perché questo? perché da allora abbiamo una disponibilità di dati molto più elevata e quindi da allora la vediamo in realtà gli osservatori gli scienziati la riferiscono la attribuiscono questa partezza al 1750 1780 da lì in poi è iniziata questa fase di riscaldamento la cui storia recente la conosciamo perché sappiamo che negli anni dal 90 al 2003 c'è stata un'impennata della temperatura media globale e sappiamo che dal 2004 adesso quindi per una decina d'anni la temperatura media globale si è assestata ecco queste variazioni noi le conosciamo ma non le spieghiamo di spiegazione non le conosciamo assolutamente la comunità scientifica che sta dibattendo ecco ne consegue che le variazioni naturali non sono ancora ben comprese e anche le variazioni antropiche indotte dall'uomo non sono ancora ben comprese nonostante appunto numerosi scorsi che la comunità scientifica sta facendo e nonostante mi viene da dire ne avremo modo di parlarne nonostante ciò che i media con finalità spesso del tutto condivisibili ci dicono cioè i media ci dicono sostanzialmente che i cambiamenti climatici hanno un'origine atropica e che sono destinati nel futuro a esacerbarsi ecco in realtà su questo non esiste una sicurezza su queste conclusioni i media propongono queste versioni perché giustamente vogliono sensibilizzare l'attenzione e poi riflettono ciò che gli scienziati propongono loro si vuole sensibilizzare l'attenzione sul problema e quindi si tende a fornire un'interpretazione che è eccessivamente pessimista bene quindi queste due interazioni variabilità naturali climate change si traducono sulle precipitazioni ma per traspirazione e temperatura ecco tenete presente che mentre sulla temperatura le tendenze sono chiarissime cioè quelle che vi ho descritto sono delle tendenze che soprattutto nel passato recente sono ben assodate non c'è un dubbio che la temperatura globale adesso sia in una fase di risalita non c'è un dubbio poi se andiamo a cercare di capire che cosa succederà nei prossimi vent'anni non lo possiamo dire però non c'è un dubbio che adesso siamo in una fase di riscaldamento noi abbiamo gli acciai che si stanno ritirando da vista d'occhio e che ce lo dicono ecco l'effetto invece sulla precipitazione sull'evapotraspirazione qui diventa veramente complicato cercare di capire perché c'è stata una per anni si è pensato che l'incremento di temperatura a livello globale abbia favorito un incremento di evapotraspirazione e questo capite che per noi è importante perché l'evapotraspirazione incidia sulla disponibilità di risorse in modo significativo nel breve termine no ma sul bilancio di lungo periodo l'evapotraspirazione si porta via un 40% della precipitazione se ricordate gli ordini di grandezza che abbiamo visto ecco quindi questo è importante perché anche un innalzamento di temperatura minimo se si traduce in un innalzamento di evapotraspirazione corrispondente a noi crea problemi in realtà ci sono stati studi recenti l'argomento è estremamente dibattuto che hanno provato che l'incremento di temperatura favorisce un incremento della copertura nuvolosa e quindi si traduce alla fine in una compensazione dell'evapotraspirazione e poi inoltre ci sono anche delle variazioni nei movimenti dei venti a livello globale che non sono ancora ben comprese e pare che si traducano in una diminuzione a livello globale della velocità del vento che è stata osservata negli ultimi decenni e quindi una riduzione della velocità del vento ha causato un caldo dell'avapotraspirazione quindi questi studi partendo da analisi appunto della copertura nuvolosa di velocità del vento a livello globale nonché osservazioni di avapotraspirazione studi recenti pubblicati su Science hanno dimostrato che non è chiaro quello che è il trend sull'avapotraspirazione sulla precipitazione va il ragionamento analogo nonostante vi siano degli spot delle località dove sono visibili delle variazioni di precipitazione ecco in realtà queste variazioni sono difficili da interpretare quindi anche la conclusione che le precipitazioni estreme siano incrementate non è una conclusione supportata da dati inequivocabili questo teniamolo presente perché ripeto in ambito di clima le certezze che ci sono sull'andamento della temperatura non corrispondono ad altrettanti certezze sugli andamenti di evapotraspirazione e precipitazione bene a questo punto però le vedete queste sono sotto le pressioni e poi lo stato lo stato indisturbato qui è indicato come natural water balance cioè sostanzialmente lo stato del sistema noi lo sappiamo benissimo come si quantifica facendo un bilancio idrico per cui noi abbiamo un volume di controllo facciamo un bilancio idrico e chiuso con quello quantifichiamo lo stato del sistema abbiamo troppa acqua ne abbiamo poca questa è la nostra conclusione ecco questo è un altro water balance però nel momento in cui si entra in una situazione che subisce degli impatti e allora può dare luogo a uno stato del sistema che non è più naturale dovete interpretarlo così mai disturbato e quindi uno stato del sistema dove c'è un water abstraction ovvero l'utilizzo eccessivo di acqua un prelievo eccessivo di acqua e quindi un sistema dove i livelli idrici nella falda decrescono un sistema che a causa della decrescita dei livelli di falda è soggetto a intrusioni salina nelle aree costiere un sistema caratterizzato da livelli fluviali più bassi da livelli più bassi dei serbatori artificiali da una perdita di zone umide conseguente della siccità e da un sistema caratterizzato da conseguenze ecologiche negative ecco tutte queste sono attributi dello stato del sistema ecco la divisione tra uno stato naturale e uno stato sofferente è data da questo water exploitation index che adesso io vi definirò che nel momento in cui viene superato causa uno stato perturbato e uno stato di preoccupazione ecco la valutazione dell'impatto e quindi la valutazione delle condizioni di magra la valutazione di un deficit di precipitazione indotto dalle pressioni quindi una volta che lo stato del sistema è stato decifrato noi passiamo a valutare l'impatto delle pressioni queste due valutazioni possono essere fatte contestualmente intendiamoci nel momento in cui valutate lo stato del sistema voi introducete le pressioni in questa valutazione e trovate immediatamente l'impatto e poi c'è la fase che a noi interessa molto della risposta quindi che cosa si fa e qui vedete una serie di provvedimenti per grandi gruppi che io vi propongo prima di andare a descrivere questo water exploitation index allora intanto il deflusso minimo vitale qui è elettato come ecological minimum flow vi ho detto che adesso si usa in lingua indese la terminologia environmental flow requirements quindi deflusso minimo vitale il rilascio del deflusso minimo vitale consente di migliorare lo stato del sistema in alcuni casi e poi tre grandi gruppi di provvedimenti la gestione della domanda e la gestione della distribuzione e poi la gestione integrata allora la gestione della domanda allora intanto vi preannuncio che io vi ho già parlato di questi due grandi gruppi vi ho detto per intervenire in caso di scassita d'acqua si può aumentare la disponibilità idrico a limitare le perdite o consumi ecco questo c'è scritto qui guardate la gestione della domanda water saving risparmio idrico maggiore efficienza delle reti di distribuzione significa limitarle perdite water pricing significa adottare dei sistemi di tarifazione che favoriscano il risparmio idrico campagne di informazione restrizioni la distribuzione idrica queste le conosciamo bene d'estate quando ci dicono che non possiamo lavare la macchina con l'acqua potabile queste sono restrizioni e ancora riduzione delle perdite riduzione delle perdite io lo metterei per me già compreso nella crescita dell'efficienza qui è esplicitato l'efficienza effettivamente include anche qualcosa di più in generale cioè l'efficienza significa anche la gestione della domanda in modo da assicurare soltanto l'acqua strettamente necessaria questa è una irrigazione importantissima cioè il sistema potrebbe essere potrebbe essere non soggetto a perdite potrebbe essere un sistema che non perde nulla ma potrebbe essere un sistema non efficiente perché veicola l'utilizzatore troppa acqua e quindi non c'è una perdita però l'utilizzatore ricevendo troppa acqua poi alla fine che cosa succede che c'è un deflusso di troppo pieno da qualche scarico che riporta l'acqua nei corpi idrici superficiali non è una perdita è semplicemente una una risorsa che non è utilizzata bene adesso il supply management però ecco come dire le perdite le potete anche includere nell'efficienza perché con l'efficienza di norma si intende incrementare l'efficienza della rete di norma noi intendiamo anche limitarle le perdite il supply management allora si possono realizzare degli evaggi artificiali con tutti i problemi poi che insolvono di dubbio parlato si può fare il gran doter ricerci che cosa significa questo non avrò mai parlato la ricarica artificiale delle falde è stata provata anche in Emilia sostanzialmente durante l'inverno quando c'è abbondanza d'acqua si rilascia per infiltrazione dell'acqua di falda con la speranza che il livello di falda poi sia più alto quando arriva la stagione estiva questo funziona benissimo se la falda è confinata se la falda come nel caso della pianura emiliana invece è indefinita da risultati che non sono del tutto soddisfacenti nel senso che non è del tutto chiaro se si erano raggiunti dei risultati se non è del tutto chiaro vuol dire che tutto sommato i risultati in ogni caso sarebbero poco significativi se la falda è confinata invece funziona come un serpatorio immaginatevi se il corpo idrico sotterraneo fosse delimitato da formazioni impermeabili mettendoci dell'acqua quella lì rimane e non evapora neppure quindi tutto sommato o meglio evapora solo in minima parte quindi tutto sommato è un provvedimento che può essere utile e all'estero in Germania e soprattutto viene largamente utilizzato già da tempo e poi ci sono il riuso delle acque in reflue e questo è un provvedimento che sta acquisendo sempre maggiore diffusione vengono utilizzate o per irrigazione o per usi non pregiati delle acque stesse ad esempio si sta valutando a Eiffel Italia se introdurre di normativa l'obbligo degli impianti separati nelle case di civile abitazione o perlomeno in alcuni edifici caratterizzati da grande consumo quali ospedali scuole edifici quindi caratterizzati da grande affollamento l'introduzione dell'impianto separato per acqua potabile e per acqua invece di uso non pregiato consente ovviamente di ottenere dei grandi risparmi un colpo di sciapone sono circa 5 litri d'acqua ecco tenete presente che il nostro consumo individuale di acqua voi questo lo avete studiato in costruzione idraulica neanche l'anno scorso nella triennale se l'avete fatto il consumo idrico di acqua giornaliero si aggira da un minimo di 150 litri abitanti al giorno a un massimo di 300-400 e anche se vi può sembrare impensabile perché non venerete conto di consumare tanta acqua in realtà questa è la quantità d'acqua che consumate vi posso garantire è che proprio minimizzando minimizzando i consumi proprio all'osso comunque una nucleo familiare di 3 persone consuma all'incirca 30 litri d'acqua al giorno meno di questo è molto molto dura e in questo vi dico nel dato di questo valore intendo già dire che non si tira lo sciapone cioè semplicemente si usano dei sistemi molto più water savings ecco se voi ci pensate una doccia porta via lungualmente una ventina di litri d'acqua 15 quindi se voi pensate a quante volte noi tiriamo lo sciacone e all'utilizzo che facciamo della doccia le volte che ci troviamo in mani un centinaio di litri noi nella nostra vita di tutti i giorni lo consumiamo più o meno bene andiamo avanti dessalinizzazione ecco la dessalinizzazione è un provvedimento che c'è alcune razioni usa non è molto costoso purtroppo è molto costoso e oltretutto se utilizzata per irrigazione lascio qualche dubbio ci sono degli studi che hanno provato che l'acqua dessalinizzazione non è molto buona per la crescita delle specie vegetali sono sostanzialmente dopo le specie vegetali soffrono di mancanza di salita e poi i water transfer i water transfer sono scarsamente utilizzati però ci sono alcune situazioni tipo le isole in cui viene utilizzato il water transfer significa che o si trasferisce l'acqua da un comprensorio idrico a un altro o tramite autoveicoli tramite tubazioni di lunga estensione bene e questi sono sostanzialmente i provvedimenti per la gestione delle magre questo già vi dà un'idea dei provvedimenti per la gestione delle magre chiaramente voi non avete ancora idea né di come si fa a capire se siamo in magra né di come si fa a capire l'intensità della magra e né di come si progettano né come si progettano questi interventi adesso cerchiamo di andare nel dettaglio prima di andare nel dettaglio vediamo questo water exploitation index allora sostanzialmente il water exploitation index è il rapporto tra l'acqua che in un determinato volume di controllo tipicamente questa analisi viene fatta a livello regionale e statale l'acqua che viene prelevata dalle fonti disponibili e il totale di acqua dolce disponibile questo rapporto deve essere calcolato in riferimento a un periodo temporale oppure in riferimento al lungo periodo allora si parla di valori meno cioè questo rapporto intanto lo ripeto come si definisce è il rapporto tra l'acqua prelevata dalle fonti disponibili e il totale di acqua dolce disponibile questo rapporto deve essere calcolato in riferimento a un contesto spaziale e a un periodo temporale per il periodo temporale di solito si fa riferimento ai medi di lungo periodo e per invece il contesto spaziale tipicamente si fa riferimento a una regione o a uno stato come si quantifica il totale di acqua dolce disponibile allora tipicamente si prende il totale di precipitazione la precipitazione media sull'un periodo si sopra e l'acquotraspirazione tutto qua se vi sono altre fonti le si conteggiano se c'è un water transfer aggiunto a questo però in condizioni normali ad esempio sul suono italiano la fresh water availability la montagna di acqua dolce disponibile viene calcolata prendendo all'incirca 500-600 mm all'anno e moltiplicando questa altezza per l'estensione del territorio nazionale 500-600 mm è la precipitazione media sul territorio italiano viene levata a traspirazione direte forse è anche 400-5 anni adesso non ve lo ricordo voglio fatti vedere questi numeri la precipitazione netta si moltiplica per la superficie del territorio nazionale e lo trova la montagna di acqua dolce disponibile ecco questa è chiamata anche risorsa idrica rinnovabile allora questo water chiaramente voi capite che se io il water exploitation index lo calcolo come rapporto tra ciò che consumo e ciò che è disponibile deve essere minore di 1 questo è fuori di dubbio e quali sono i valori critici un'indicazione di letteratura è che questa soglia di criticità la possiamo collocare attorno al 20% cioè quando il water exploitation index supera il 20% entriamo in una situazione di attenzione se supera il 40% si parla di sofferenza idrica pronunciata sofferenza idrica grave vediamo qualche statistica adesso cambio e vi faccio vedere un documento che non è disponibile questo l'ho trovato questa mattina sul web ho messo sostanzialmente il water exploitation index euro come è saputo fuori questo allora questo vedete l'andamento del water exploitation index per diversi stati europei e vedete una barra colorata e una barra tratteggiata sostanzialmente la barra tratteggiata si riferisce a un prelievo di risorsa idrica totale che comprende la risorsa che viene prelevata per il raffreddamento delle centrali elettriche ecco questa risorsa quindi la vedete appunto qui tratteggiata per alcuni paesi questo prelievo è molto significativo per l'Italia non lo è tanto come vedremo perché l'Italia lavora molto sul libro elettrico che non ha bisogno di raffreddamento però per alcuni paesi invece il prelievo di acqua da volce per il raffreddamento delle centrali che viene chiamato anche energy cooling è molto significativo questo prelievo viene solitamente fatto dai laghi e poi l'acqua viene restituita perché attenzione qua stiamo parlando di prelievi i prelievi non implicano o meglio i prelievi implicano che parte dell'acqua viene restituita quindi non volete pensare che questo prelievo si traduca in un consumo cioè quando nel caso delle centrali questo è chiaro l'acqua di raffreddamento viene restituita all'acqua dove viene prelevata e viene restituita esattamente dove viene prelevata quindi non è un consumo però si verifica un prelievo e quindi qua è stato visualizzato il tratteggiato e voi potreste dirmi ma scusi ma noi che cosa interessa non è un consumo l'acqua viene prelevata dall'estituita lì non è neanche un depauperamento perché c'è un continuo interscambio ecco no non è sempre così perché intanto la restituzione non è esattamente pari al prelievo c'è una parte di evaporazione ma non è questo il problema il problema è che questo circolo di acqua provoca il riscaldamento dei laghi per cui questo è un problema a livello europeo che è molto pronunciato e su cui la ricerca sta compiendo ricerche molto approfondite perché i grandi laghi tipo il lago di Costanza ad esempio hanno subito un riscaldamento negli ultimi 30 anni notevole questo riscaldamento comporta caldo della qualità delle acque un impatto sull'ecosistema un impatto sul clima e questo riscaldamento si è verificato che è dovuto solo in minima parte all'aumento di temperatura globale in gran parte e qua stiamo parlando di riscaldamenti che sono dell'ordine anche dei 2 gradi non è roba da poco la temperatura globale negli ultimi 100 anni è salita di mezzo grado l'internet è presente in questi ordini di grandezza quando si parla di riscaldamento del pianeta temperatura globale negli ultimi 100 anni si parla di mezzo grado con delle incertezze in gioco e invece sui laghi si parla di un paio di gradi ecco quindi questo utilizzo è un utilizzo che deve stare a preoccupazione perché poi impatta sulla qualità delle acque la stessa acqua dai laghi viene poi prelevata anche per uso civile e quindi ci sono degli impatti se l'acqua decade di qualità perché viene riscaldata bene allora qua vedete l'angelo del water exploitation index intanto vedete che ci sono gli stati del nord che stanno benissimo questo però mi ragioni perché là piove di più c'è meno caldo hanno maggiori disponibilità idriche invece ci aspettiamo che nel sud dell'Europa la situazione peggiori ecco vedete infatti che man mano che è andato per indici crescenti vedete che ci spostiamo che è piano verso sud e qua in basso troviamo parte la Danimarca che evidentemente deve avere poche fonti di approvvigionamento però qua troviamo la Grecia il Portogallo la Turchia l'Italia il Belgio che se vogliamo questo è ancora abbastanza nord e qua in mezzo invece troviamo la Francia la Polonia la Germania la Repubblica Cecca il Lussemburgo e quindi vedete che c'è proprio imprendi albero da sud niente di nuovo lo sappiamo perfettamente l'Italia vediamo in che situazione intanto guardiamo qual è il massimo arriviamo a un valore attorno al 40% per Malda e Cipro che sono isole note per avere problemi indici notevoli ecco l'Italia però non è tanto distante da quei livelli comunque al di sotto del 30% ecco l'Italia chiaramente se la dividessimo tra Italia del nord e Italia del sud ci renderemo conto più al nord probabilmente ci assistiamo attualmente al sud vediamo il sud